Questa soluzione temporanea non ci piace, diciamolo chiaramente, ma è evidente. Insomma, una delle città più inquinate d'Italia non crediamo abbia bisogno di un parcheggio che attiri ulteriore traffico in centro. A Lega Ambiente il parcheggio Prandina non piace proprio, nemmeno se temporaneo. Meglio creare parcheggi scambiatori fuori dalla città e combattere così l'inquinamento. Si aprono i cancelli del parcheggio più discusso degli ultimi mesi e di fianco a un centinaio di padovani curiosi di scoprire lo spazio a piedi, in pochi minuti si riempiono i circa 300 posti gratuiti a disposizione. Il vice sindaco cerca di tranquillizzare i critici sul fatto che è una soluzione temporanea. Il 7 gennaio l'esperimento finirà, anche se Lega Ambiente teme che la soluzione di un parcheggio provvisorio diventi definitiva. Da parte nostra tutta la determinazione perché qui possa iniziare al più presto un cantiere di rinnovamento che è ovviamente incompatibile con il parcheggio. Poi è chiaro che in quest'area dei posti auto ci saranno, nel senso che se ci saranno delle attività ci saranno anche delle possibilità di parcheggio. Fare parcheggi nei centri città oggi è come piantare delle cabine telefoniche. Già aperto il dibattito sul futuro, quando la proprietà sarà interamente del comune ci vorrà però almeno un anno e mezzo. Lega Ambiente propone di recuperare le strutture esistenti per dare spazi coperti alle associazioni e alle famiglie, specie in inverno. Visto che ci sono anche diversi spazi coperti quindi non è che si andrebbe a erodere il verde con delle coperture ma mettere a disposizione dell'associazionismo, dei giovani ma anche semplicemente delle famiglie che magari quando piove fa brutto tempo, devono andare per forza al centro commerciale. Se lasciamo che tutti gli spazi siano finalizzati a far soldi io non credo che sia un grande investimento sul futuro. Pronta la risposta anche per i commercianti e residenti che vorrebbero un parcheggio permanente. Diciamo che non è appunto creando parcheggi in centro o riportando le auto nei nostri centri storici che li rendiamo più vivi, è creando davvero dei posti che permettano di socializzare, che doiano spazi alle persone e non alle macchine. La prima opera da realizzare è una pista ciclabile in Corso Milano, dicono gli ambientalisti. No lo spostamento del parcheggio di piazza in suorrezione qui perché l'obiettivo finale è ridurre i posti auto in centro, quindi perché no pedonalizziamo Corso Milano. Grazie.